Sono otto combinazioni possibili, la messa insieme e la sequenza di queste espressioni simboliche, perché due sono i genitori, ma ciascun genitore presenta due modelli diversi contemporaneamente, il papà presenta il modello paterno, ma presenta anche il modello maschile, la mamma presenta anch'essa il modello materno, ma anche quello femminile, quindi sono quattro modelli, questi due eventi che già abbiamo espresso di modelli di rappresentazione, questi quattro modelli, padre due, padre maschio e due madre femmina, diventano quattro, poi a secondo di quella famosa tipologia distonica di appartenenza della persona, essere o avere, ciascuno di questi quattro può appartenere alla distonia dell'essere o dell'avere, quindi quattro moltiplicato due, otto combinazioni. Quindi ripetiamo, giusto per ricordarlo, la distonia dell'essere riguarda le persone che tendono a coinvolgersi nel desiderare, quindi nel porre ostacoli al possesso, mentre quella dell'avere coinvolge invece le persone che si interessano molto di più al possesso, quindi tendono a possedere ma non desiderano.